Passano il turno ai vincitori delle tre batterie di semifinale e poi verranno rimbescati i migliori cinque tempi ed è subito Marelli che si porta in testa L'atletta della Brianza in line con Scotto ora a dare il cambio Ancora Scotto cerca il cambio, lo trova in Dominoni Fa fatica di entrare Scotto, deve accodarsi in sesta posizione con Dominoni in testa ora al passaggio dei 600 metri in 56 alto, alto alto con Marelli ora che si è riportata in testa ma lei che non è una gara molto veloce, vedete il gruppo è tutto schiacciato al passaggio suono della campana Marelli, Fossemo e Logaretti nelle prime posizioni Fossemo all'esterno sulla rettilineo opposta a quello d'arrivo la tredda della Rolling Bosica va a chiudere in prima posizione in 1'34'936 e intanto vi do lettura dei per prendere in via in questo momento ricordo le vincitrici delle batterie e i migliori 5 tempi andranno a riempire le 8 casette di finale per l'atleta del Rollersport, Vado Vigure, Tegrado che si è portata in testa con Pintatore a ruota poi Marchiotto eccole al passaggio dei meno 3 con Degrado che si è portata in testa Pintatore poi Marchiotto poi l'atleta del 1 che ci ha rivellato eh sono tutte lì, sono tutte lì da questa batteria difficile andare a prendere tempi di ribescaggio a passaggio fuori della campana con Pintatore e Marchiotto nelle prime posizioni ancora in testa l'atleta del Rollersport, Vado Vigure e Gattatore che va a chiudere in 1'37' è chiamata la nonna partite è l'atleta del Savone Line che si è portata al comando Dei Mani Falcioni Raga Chiumento poi Martinato Ancora in testa l'atleta della Luna Sport Academy Falcioni andiamo ora Raga a dare il cambio sembra un po' più veloce questa batteria dove all'interno soffia Paola più lento è utile fare troppa tattica è la predestinata ad andare a vincere la batteria quindi è conveniente per le altre tenere un ritmo un po' più alto a Chiumento fa la sua parte anche troppo partita l'atleta della menzana a lunga Sofia Paola Chiumento che va a chiudere in 1.32 e 403 quindi questa batteria è stata la batteria numer 6 Grazie.